Chiudono ristoranti, bar, pub, pasticcerie e gelaterie definitivamente dopo la stretta sancita dall'ordinanza emessa ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri che in campagna, almeno su parrucchieri, barbieri ed estetiste, arriva un giorno dopo. Dire che chiude tutto è in verità esagerato perché moltissime attività possono ancora restare aperte osservando le disposizioni di sicurezza, come chi eroga servizi finanziari, generi alimentari, ma l'obiettivo principale è e resta quello di evitare assembramenti. Annunciata ieri e oggi è arrivata anche l'ordinanza del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, sulla chiusura di tutti i parchi e ville cittadine, quale ennesima misura per contenere il contagio. Si tratta di aree dove anche attraverso i controlli delle forze dell'ordine della Polizia Municipale continuavano a registrarsi fino a ieri gruppi di persone nonostante i divieti. Resta aperto, ma solo fino alle 14, il cimitero monumentale di Brignano, fatto salvo il ricevimento delle salme e le operazioni indifferibili. Ed intanto questa mattina sono stati elevati alcuni verbali ad attività che non hanno rispettato il divieto. Ecco la polizia in azione sul lungomare cittadino di Salerno, dove è stato trovato aperto, nonostante l'ordinanza di chiusura, un noto bar cittadino. Per fortuna la città è apparsa decisamente più vuota. Nessun assembramento sul lungomare né a Santa Teresa, fino a ieri ancora piena di gente. La maggior parte di persone è quella che si reaggruppa presso i supermercati, dove anche il rispetto di entrare pochi per volta provoca delle code. Carabinieri ed altre forze dell'ordine proseguono anche con i controlli sugli spostamenti, non solo tra diversi comuni, ma anche nella stessa città. La certificazione è facilmente scaricabile e quindi stampabile dall'internet, dal sito del Ministero dell'Interno. Nel caso in cui ne foste sprovvisti, le nostre pattuglie hanno la possibilità di fornirvene una. Va da sé che ovviamente questo comporta una maggiore perdita di tempo sia per l'utenza che per noi. Questo non ci consente di performare al massimo ed effettuare il maggior numero di controlli possibile.